Serbo sostituito alla mezz'ora del primo tempo con la Fiorentina sotto di due gol contro il Novara. Tornando in panchina ha applaudito il tecnico, il gesto ironico del giocatore ha mandato su tutte le furie rossi che lo ha colpito con una manata. La panchina dei Viola poi è intervenuta per dividere il tecnico e il giocatore.